Quanto manca ancora? Più o meno dovremmo essere arrivati Ancora 5 minuti, qualche curva E siamo direttamente in vetta Oltretutto è un posto bellissimo Perché è solo natura sconfinata Bello Secondo te è breve volerà su? Sì, sì Quando siamo in vetta vedrai che tira vento direttamente sul mare Vedrai che sale, fa alto volo E bellissimo Non vedo l'ora di vederlo Del tempo comunque regge Vedrai che sarà una bella giornata Tu ci sei mai stata qua? No, io no Ho passato un'intera vita al fianco degli animali Ora mi ritrovo ad analizzare alcune sfaccettature Del perché così tanta attrazione verso di loro Negli ultimi anni mi sono fermato tanto a riflettere E finalmente ho trovato delle risposte Che sono le più vicine ai miei perché Considero tre fattori chiave Che permettono una relazione perfetta Sacrificio, conoscenza Ma soprattutto empatia L'empatia significa sentirsi dentro l'altro Sperimentare il modo in cui Un altro essere vivente vive un'esperienza Pensate, nelle scienze umane L'empatia designa un atteggiamento verso gli altri Caratterizzato da un impegno di comprensione del prossimo Escludendo ogni attitudine affettiva Personale Ogni giudizio morale L'empatia designa un atteggiamento verso gli altri Un atteggiamento verso gli altri Musica in bo helps guidare il sizo Caprigino Un atteggiamento verso gli altri E, Infosalti Eh, there, un frobi E, GO radi publico è una Grazie a tutti. Grazie a tutti.